Buongiorno cari amici della Maratona Veneta, la parola di Ancol è una parola. La parola è il verbo andar, che è un verbo irregolare, inteso forme monosillabiche. Allora, vo, cosa vuol dire? Mi vo. Prima persona, singolare, presente in negativo. Mi vo, dite ve, io e va, o io e va. Mi vo e viene da vado, in realtà, vadere, in latin, vado. Infatti si può dire anche mi vao, e al posto dell'intramesso del vao, lo scrivo, che viene fuori da vado, in realtà si può anche ammettere che è dentro una g, mi vago. E il capita per diversi verbi che si è monosillabi, che qua in meso, se che sono, è addirittura una g e pentetega, se dice, che si inserisce in meso. Mi vo, dite ve, io e va. Ah, fermi un attimo. Ave mi vo, non si può, è mia, in italiano si dice, io vado, e fine. No, neanche in italiano si dice, io vado, e basta. Perché se pensai a Leopardi, dell'infinito, dice, io questo infinito silenzio, questa voce, vo, comparando. E ora, anche in Toscana, normalmente, che dopo si diventa l'italiano, se puoi dire vado, ma se puoi dire anche a voo. Questa roba qua in italiano, se che ha spesso insieme in quel tempo come roba letteraria, per gli altri invece, se vedi che questo qua è abbastanza lineare, mi vo, dite ve, io e va. Una cosa importante che voglio farvi vedere è che in Veneto, questa qua sono le persone singolari, prima, seconda, terza. Mi vo, dite ve, io e va. Il, il plurale, è se, noi altri, andiamo. Ecco qua l'irregularità, se mia, noi altri vemo, come che non so in spagnolo, in portoghese, che se, vamos, vamos, no? E noi altri, andiamo. Voi altri? Ecco qua se è possibile dire sia voi altri ve, 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 no? Sia che voi altri ve casa, domanda mattina. E sia anche se puoi dire voi altri in de. E se è possibile tutto e do. In italiano si dice voi andate, non voi vate, per esempio. E il plurale di lui e il va, e se loro i va. E ora in Veneto c'è sempre l'identità tra la terza persona singolare, prima, seconda, terza singolare, lui e il va, e la terza persona plurale. Lese sempre compagne in tutti i verbi. Provi a provare finché voi, questa qua è una regola costante in tel Veneto. Un'altra regola semicostante è quella che anche la seconda singolare ha la tendenza a essere la stessa della seconda plurale. Dite sì, voi altri sì. Un altro esempio. Questa regola, queste regole qua, queste costanze interne, le va oltre le differenze di varietà, perché le è presente in tutte le varietà. A dire, se uno dice una cosa differente, non so, di te sì, non so, di te tu sei, come si dice a B1. E voi altri sì, se la costanza le resterà anche in te stessa maniera. Dunque, che se le regole di tessidura, di struttura, che ha le cose che c'è dentro, anche se c'è una varietà dentro, la regola della ripetizione la c'è la stessa. Questo va qua, cosa devo dire? Qua vi ho introdusso una regoletta di ortografia, che è quella dell'apostrofo. L'apostrofo è il marca e l'imperativo monosillabo. Dunque, va casa, è l'apostrofo. Come va casa, è l'apostrofo. Qua, perché c'è un accento, perché la seconda persona, in particolare la singola, è quasi monosillaba, che ha la E, che mettiamo l'accento perché solitamente, se no, la va a sconfondersi con qualche pronome. tite ve, invece del pronome ve, nel senso de a vo altri, o vo altri. O anche, tite ghe, per esempio, invece de el ghe gadito, come pronome obliquo. E come anche, non so, tite se, con l'accento verto, appunto. Il verbo saver, per non sconfonderlo con il pronome se, no? E se ha visto la sua specie, il pronome riflessivo. Dunque, che vi capito che c'è delle regole interne, c'è delle costanze interne, è questo che dimostra che si tratta di un sistema linguistico. Perché le costanze interne, che va è, per esempio, per la varianza del Veneto Centrale, è seccata costante anche dentro il sistema del Bionese. Non c'è tutto costante, ovviamente, perché nessuna lingua c'è tutto quanto costante sa, salvo che, se fermiamo, come si è fatto con l'italiano, non ci appare il mio Toscano. Intanto, l'italiano non è l'italiano, ma l'italiano è il Toscano. Ma non è il mio Toscano, è il Fiorentino, ma non è il mio Fiorentino. Se il Fiorentino è in classe alta, da sempre no, solo il mio 300, perché da là si è partito e si è ignorato il 4, il 5, il 6 cento. Per esempio, si è tagliato fuori dal modello. Qua invece si tratta di mantenere tutto il modello a disposizione, perché, se voglio ragionare, non di fare delle rappresentazioni in serie di cose che si facevano nel mio 300 all'infinito e portarle dappertutto, ma di garantirle a tutte le manifestazioni della lingua veneta di esprimersi come che le è. Perché non abbiamo paura della varietà, perché la lingua la è questo. E semplicemente si tratta di dare delle regolette di vestizione, di rappresentazione della lingua in cui sono 5 varietà. Se la lingua le è intercomprensibile sul parlare e le costanti che cattiamo nel parlare le sono forti, se scriviamo esattamente quello che diciamo non avremo da temere, perché se il modello si sente che è la stessa lingua, riproducendo in scritto la stessa cosa, vedremo che il modello si vede e non ha bisogno che in te la scrittura abbiamo da inventarsi, che bisogna creare uno nuovo per resimentare in poco spazio tutto, omogeneizzare tutto la stessa cosa, perché sennò non si capisce o chissà cosa. Si può portare avanti tutto il modello. Ciaro che un foresto a un certo punto potrà assernire se vuoi imparare una varietà o che altra, o imparare quello che se devo maurarsi lo fa il macro standard, lo standard sublettivo. Ma che ne parleremo su un altro video della nostra maratona veneta. Anche ancora che abbiamo fatto siamo a 65 ma anche a 35 video della nostra maratona dei 100 video, un video ogni di per 100 di. E se vedremo domani.